L'argomento del cambio è già stato trattato su questo canale, tuttavia recentemente mi ha contattato una società che offre questo tipo di servizio in modo un po' diverso. No, questo video non è un video sponsorizzato, semplicemente la loro idea mi è piaciuta e può essere utile per risparmiare, quindi oggi vi porto nei loro uffici a Chiasso per capire meglio di cosa si tratta. Oggi siamo qui negli uffici di Cambiavalute con Filippo per scoprire come funziona un ufficio cambio un po' particolare. Esatto, ciao Luca, grazie per avermi invitato a questa intervista. Come hai detto tu giustamente, io lavoro a cambiavalute.ch, siamo un cambio online a Chiasso, siamo in corso San Gottardo 8a e la particolarità principale del nostro ufficio Cambi è che non trattiamo i biglietti di banca, lavoriamo esclusivamente via bonifico bancario. Ah ok, quindi se io arrivo con una banconota voi non la cambiate? No, mi spiace ma abbiamo proprio deciso di abbandonare il fisico, il denaro fisico e passare completamente a quelli che sono poi secondo noi il futuro dei pagamenti, i bonifici o comunque i trasferimenti di valuta digitale. Ma perché questa scelta? Guarda, io credo che semplicemente si tratti di comodità. Quindi il vostro cambio, se non sbaglio, è l'unico cambio online in Canton Ticino? Non siamo gli unici, però ci freggiamo del fatto di essere i migliori. Siamo nati per primi, abbiamo avuto questa idea e siamo nati nel 2016, a fine 2016. Da quel momento siamo cresciuti e ci stiamo espandendo, insomma ci stiamo difendendo e stiamo crescendo bene. Ok, ma per capire meglio un cambio tradizionale più o meno sappiamo tutti come funziona perché ci si entra, si vede come dire gli operatori, lo sportello. Come funziona invece un cambio a valuta online? Guarda, è molto semplice. Il cambio a valuta online prima di tutto ti deve dare una certa sicurezza, perché una delle domande che la gente che prova per la prima volta il servizio o visita il sito per la prima volta ci chiede come faccio a fidarmi, chi siete. Per questo ne abbiamo sul sito, alla sezione chi siamo, ci sono le facce del personale, i volti del personale e poi le licenze che devi avere per poter fare questo tipo di attività. Noi siamo regolati dalla OAD Polireg, che è un organismo di autodiscipline istituito dalla legge sugli intermediari finanziari. Quindi noi abbiamo tutte le licenze del caso, siamo comunque assicurati per la responsabilità professionale e devi in tutto capire se è fatto per te, se è fatto apposta per te, se ti fa risparmiare e se ti puoi fidare. Ti puoi fidare, abbiamo detto che devi avere le licenze, puoi verificare sugli albi del cantone, c'è l'albo fiduciario, trovi sia me che l'altro fiduciario che appunto lavora a cambiavalute.ch, devi avere come ti dicevo i due conti bancari, uno in valuta franchi, uno in valuta euro e poi come ultimo scrupolo... Un po' di liquidità sul conto. Ma è quella per forza, perché noi dobbiamo cambiare i soldi, se non abbiamo soldi da cambiare non lavoriamo. Ma il servizio di cambiavalute è rivolto principalmente ai frontalieri allora? La nostra clientela si è composta proprio da frontalieri, ma cambiavalute si rivolge a tutti coloro maggiorenni che abbiano un interesse dimostrabile sul suolo svizzero o che siano residenti, quindi la Sciura Maria della Val di Mugio può venire a cambiare da noi assolutamente, sempre coi bonifici non coi contanti, ma può farlo senza dubbio e siamo felicissimi che lo faccia. È chiaro però che per un cambiavalute in Svizzera il principale cliente, specialmente si è rivolto alla clientela retail, alla clientela commerciale al dettaglio, sono i frontalieri. Ok, perché il mercato diciamo del cambio in Svizzera ha stimato sui frontalieri quanto potrebbe equivalere? E a questo punto io farei entrare in gioco l'aritmetica. Stime recenti dicono 71.000 frontalieri circa in canton ticino, parliamo del canton ticino, facciamo uno stipendio medio di 4.000 franchi, arrotondando, cifra più cifra meno, viene questa cifra d'affari. Ok, aspetta che non riesco a leggere il 184 milioni al mese o all'anno? No, al mese. Al mese quindi per 12 superiamo? Per 12 sono tanti soldi, sono 3 miliardi 408 milioni di franchi. Adesso si spiega perché ci sono parecchi cambi sul territorio. Ok, assolutamente. Quali dati servono per poter utilizzare il vostro servizio? Quando una persona si rivolge la prima volta a cambiavalute.ch, sia questa una persona fisica o giuridica, quindi una persona come posso essere io, come vuoi essere tu o una ditta, deve compilare un formulario. Il formulario, perdonami, prevede diversi dati fra cui nome, cognome, l'indirizzo. Oltre dati personali bisogna inserire il pro il conto di destinazione, il conto dove si desidera ricevere il denaro cambiato perché il servizio funziona in questo modo. Tu bonificherai a cambiavalute.ch una certa somma a delle coordinate bancarie che noi ti forniamo via mail. Noi ti ritorniamo la somma cambiata nella valuta che ci hai chiesto sul tuo conto, conto che ci hai indicato tu stesso. Per questo noi riceviamo da te un bonifico e dobbiamo inviare a te un bonifico. Senza i dati bancari non sapremmo dove inviarlo, per questo dovrai inserire dati personali e i dati bancari, certamente se no non riusciamo a completare l'operazione. E questi dati poi che fine fanno? Noi azioni come intermediario finanziario svizzero regolamentato siamo appunto tenuti dalla legge a conservarli, li conserviamo per una durata di dieci anni. In più siamo comunque tenuti a osservare tutte le leggi di tutela della riservatezza, l'obbligo fiduciario eccetera e per quanto riguarda i cittadini europei, quindi residenti in Europa e appunto residenti in uno stato membro osserviamo anche la legge della cosiddetta General Data Protection Regulation che è GDPR per cui appunto dobbiamo osservare tutta quella serie di diritti riconosciuti ai cittadini europei in termini di cancellazione dei dati, diritto all'oblio eccetera eccetera. Ok quindi diciamo i dati di chi utilizza il vostro servizio non è che vengono venduti a qualcun altro? Assolutamente no, li abbiamo noi nei nostri archivi sia digitali che fisici e non vengono dati assolutamente a terzi di trattiamo noi, puoi chiedere guarda ci metto la mano sul fuoco a qualunque nostro cliente non ha mai ricevuto una comunicazione strana perché noi abbiamo venduto dati eccetera, garantito. Ma adesso voglio capire un attimino meglio come funziona un cambio perché è vero che il cambio guadagna sul margine che fa sul cambio diciamo interbancario ma il cambio può anche in un certo modo scommettere sul rialzo e ribasso quindi potete insomma giocare sulle oscillazioni e funziona così? Hai ragione ma è estremamente rischioso prima di tutto perché nessuno ha idea di come andrà il cambio da qui a un minuto a un mese a un anno non lo sa nessuno e ti faccio una battuta che mi ha sempre fatto il mio capo se sapessi come vanno i mercati del forex non dovrei lavorare quindi ti posso garantire che non sarei qua a lavorare per quanto riguarda lo scommettere sono di altrui a parte il fatto che non si può più fare ed è presuppone una qualche sorta di illecito e a seconda questione sarebbe altamente rischioso poniamo il caso che io compri ad un prezzo che si poi si rivela essere dieci minuti dopo estremamente svantaggioso ovvero il cambio è qua quindi io compro qua e la clientela dieci minuti dopo comincia a comprare qua caso generale io ho usato tutti i miei fondi per comprare a questo livello e la clientela compra qua e sto perdendo tutta la differenza se scommetto in questo modo quindi se penso di riuscire a anticipare il mercato e ho i clienti perdo vado in bancarotta io non devo fare altro che coprire le posizioni ed è una cosa più giusta da fare nel senso che io non faccio nient'altro che replicare quello che fa il cliente ma il cliente viene a comprare da me quindi io rappresento il mercato la borsa per il cliente io però mi rivolgo poi a un altro intermediario finanziario che mi fornisce lui il servizio di di cambio che quindi gli uffici cambio non giocano d'azzardo o almeno quelli che lavorano bene non giocano dazzaro coi soldi dei clienti anche perché la crisi finanziaria del 2008 più o meno a c'era la questione di separare le commercial bank dalle investment banking perché spesso cosa si faceva si faceva trading incontro però un conto proprio con il denaro dei clienti e quando cominciavano a saltare alcune operazioni poi saltavano magari conti mutui insomma è una questione non di poco conto e scommettere il denaro altrui ok va bene allora a questo punto non ci resta che provare il servizio e a me sinceramente cambia valute mi ha convinto adesso proviamo a cambiare qualche soldino qui direttamente dal loro ufficio per essere sinceri il cambio valuta non l'ho fatto nei loro uffici ma l'ho fatto poche ore più tardi quando sono arrivato a casa il cambio è stato fissato al momento della mia richiesta quindi come diceva filippo per lavorare bene bisogna acquistare valuta nel momento in cui il cliente fa una richiesta di cambio ricalcando la sua domanda per fare un confronto il giorno stesso ho fatto un giroconto da un conto in franchi a un conto in euro i costi del giroconto sono stati di circa l'1 virgola 33 per cento il costo di cambio a valute è stato solo dello 0 virgola 32 per cento questo significa che un lavoratore frontaliere cambiando tutto il suo stipendio nell'arco di un anno risparmierà circa 500 euro rispetto ad un giroconto bancario e circa 250 euro rispetto al cambio in un ufficio cambio tradizionale filippo è stata una persona disponibilissima e non escludo che lo rivedremo in altri video per trattare altri argomenti per ora questo è tutto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao